Allora, una correzione d'obbligo, diciamo così, il titolo di professore è forse eccessivo, semplicemente ricercatore, quindi sono un dottore anche perché... No, 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 ma sarebbe rivolto al Ministero, no, ma neanche un auspicio a dire la verità, neanche un auspicio. Naturalmente ho seguito con molta attenzione il professor Donolo anche perché conosco quello anche che il professor Donolo ha scritto in questi anni e in qualche modo comprendo anche perché appunto nella sua relazione di oggi lui abbia preso alcuni temi che naturalmente diciamo così oggi dopo l'esperienza diciamo così di decenni, se pensiamo a tutta l'esperienza della programmazione negoziata, ma credo che lui facesse riferimento anche alle politiche passate, è chiaro che ad un certo punto ci si domanda in qualche modo se ci siano forse oggi prevalentemente dei fattori di ordine istituzionale e culturale che in qualche modo ci consentono di spiegare i problemi del mezzogiorno. Però ecco, c'è una cosa sulla quale io non sono molto convinto, non direi concorde. In altri termini che cosa voglio dire? Voglio dire che non vorrei che adesso sostituissimo diciamo così alle cause, ai problemi del mezzogiorno, diciamo a un determinismo economico dei decenni passati, un determinismo di tipo culturale e istituzionale. Cosa voglio dire? Il professor Donolo giustamente ha detto non dobbiamo guardare soltanto ai problemi dello sviluppo, ai problemi degli indicatori economici del mercato del lavoro perché, come tra l'altro sembra insegnare l'esperienza della programmazione negoziata più recente, alle volte pure in presenza di ingenti finanziamenti abbiamo riscontrato un problema rispetto all'utilizzo di questa spesa. Io credo che questo è sicuramente un problema, però io voglio riportare un attimo l'attenzione su un tema che credo che debba in ogni caso fare chiarezza. L'esperienza della programmazione negoziata è stata, in parte è ancora importante, però non vorrei che confondessimo i finanziamenti che in questi anni sono stati messi a disposizione nel mezzogiorno nelle sue diverse modalità, dai pit ai patti territoriali, contratti d'aria, con quelli che sono i problemi strutturali del mezzogiorno. Vorrei cercare un po' di fare chiarezza forse su questo è utile. Sicuramente sono stati degli strumenti importanti dal punto di vista, perché molti lo dicono, perché forse per la prima volta molti attori dello sviluppo si sono riuniti intorno ad un tavolo per discutere su che cosa avrebbero dovuto fare di questi finanziamenti. Però se il problema del mezzogiorno è il problema del suo quadro istituzionale e quindi della sua classe dirigente in qualche modo, potevamo mai pensare noi che una diversa stagione della programmazione negoziata avrebbe determinato delle risposte soddisfacenti da questo punto di vista. Questo io credo che sia l'interrogativo. Allora mi chiedo in altri termini se questo problema non si è risolto e naturalmente non si poteva risolvere nell'arco neppure di dieci anni e se è un problema che permane e che riguarda il quadro istituzionale del mezzogiorno. Se quindi anche quando questo quadro istituzionale ha possibilità di ragionare sulle risorse, sul loro impiego e non ci riesce, allora che cosa dobbiamo pensare? Chi sono allora gli attori veri che devono determinare i processi di sviluppo effettivi? Dico anche questo perché poi se guardiamo all'esperienza della programmazione negoziata sembra che l'unica cosa che abbia funzionato un poco sono stati i contratti di programma e gli accordi di programma. Non a caso quando sono intervenuti grandi aziende, quando c'è stato un intervento diretto dello Stato, quando quindi probabilmente c'è stata una politica di programmazione diciamolo forse non proprio decentrata che in qualche modo ha favorito qualche margine di sviluppo. Adesso non so se ho ancora molto tempo ma vorrei dire anche altre due cose. Sulla questione del disordine sociale che è naturalmente evocativa e in qualche modo spinge a molte riflessioni, molte cose che sono state dette io naturalmente le trovo condivisibili da questo punto di vista. Io però mi chiedo anche se forse questo disordine sociale in qualche modo non vorrei apparire dietro logico rischi di essere come dire anche in questo caso come dire una sorta diciamo così di giustificazione dell'impossibilità in qualche modo di determinare una forma di ordine. In altri termini insomma mi chiedo anche questo disordine forse è funzionale anche a qualcuno e le responsabilità naturalmente sono qui anche di nuove istituzionali e politiche. Io credo che allora a questo punto ci siano due questioni che io ritengo essenziali e dalle quali bisogna ripartire forse anche se non dico nulla di nuovo ma non sto dicendo nulla di nuovo in questo intervento. Sono due io credo. La questione dell'occupazione. Io credo che è inutile come dire fare altri ragionamenti finché noi non iniziamo a ragionare su gli indicatori del mercato del lavoro. Possiamo anche parlare di mezzogiorni differenti e mi sta anche bene. Però il mezzogiorno è una macro area e le sue eccezioni purtroppo non giustificano ad oggi delle tendenze divergenti. Io credo che stiamo ritornando molto indietro e stiamo ritornando molto indietro perché tra l'altro se prendiamo uno di questi indicatori, quello migratorio, io direi insomma dobbiamo anche iniziare a dire qui non è che emigrano soltanto i più scolarizzati. Dobbiamo iniziare a dire forse perché questa è un po' la cosa che è passata negli ultimi anni. Ma non da oggi, da dieci anni sono riprese ad emigrare i muratori, gli operai e hanno ripreso o continuato ad emigrare anche quelli scolarizzati. Allora evidentemente c'è un problema che è un problema diciamo così storico che è quello di una debolezza strutturale della domanda di lavoro, che ha delle responsabilità precise nella programmazione fin qui fatta, anche con riferimento all'esperienza dei fondi strutturali, ma che però deve chiamare in causa dei soggetti reali e concreti, con nome e cognome. Io penso che ad esempio non è possibile da questo punto di vista non tirare dentro le imprese e le sue associazioni, Confindustria in primo luogo e tutte le associazioni imprenditoriali, oltre alle responsabilità politiche che io credo che siano responsabilità che attengono al fatto che lasciamo stare le politiche industriali che ormai non esistono da molto tempo, ma che non esiste una politica di sviluppo per il Mezzogiorno io non so da quanti anni, cioè non esiste in altri termini la programmazione e un'idea di utilizzo corretto dei fondi. Quindi questo credo che sia un problema sul quale bisognerà necessariamente ritornare. Il secondo problema per il Mezzogiorno grandissimo quanto un appartamento di un attico è relativo all'accesso alle risorse pubbliche. Questo è il punto. Abbiamo un meccanismo di accesso alle risorse pubbliche che di fatto impone la formazione di lobby, clientele, di gestione parassitaria di queste risorse che inevitabilmente produce poi dei cortocircuiti sul piano politico. Concludo dicendo che io credo che, e lo diceva bene il professor Donolo, che il sindacato in questa partita gioca, io credo, un ruolo fondamentale. E lo dico perché? Perché probabilmente nonostante, devo dire, i limiti, finisco subito, del sindacato, io credo che l'unico soggetto che oggi nella devastazione, oltre che nel disordine, nella devastazione sociale, l'unico soggetto che può ancora in qualche modo riportare l'attenzione sul tema della cultura dell'occupazione e dei diritti, purtroppo, devo dire, oggi rimane il sindacato. Con tutte, io devo dire, con tutte le sue mille contraddizioni, perché io credo che il sindacato debba, io stesso sono un iscritto anche al sindacato, debba fare, la tessera non mi arriva ma me la vado a prendere, questo faccio. Io penso che il sindacato debba avviare, io lo dico con estrema tranquillità, il sindacato, mi dispiace dirlo, spesso è autoreferenziale e io dico anche una cosa che forse è anche più negativa, attenzione, per molti lavoratori, soprattutto per le generazioni più giovani, che hanno difficoltà di accesso al lavoro, il sindacato sta cominciando a diventare una controparte, non un soggetto che si mobilita su avvertenze collettive. Naturalmente non vale per tutto il sindacato, ma io credo che questo è un problema serio che non deve essere messo sotto il tappeto e io credo che può essere da qui in qualche modo, possono forse venire delle risposte. Grazie.